Intanto diamo il benvenuto all'orchestra di archi del Liceo Lucrezia della Valle a cui va un applauso di benvenuto. I due brani che salveranno sono un omaggio a Alfonso Rendano che si chiama Shandu Baisan e un brano di repertorio che è Pallaro. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.